eccoci qua ragazzi allora oggi gara stunt dovrebbe essere fastidiosa questa non ricordo bene ma penso di averla già fatta e questa qua dovrebbe essere fastidiosa ho voluto portarvela in modo che se vi piacciono questa tipologia di gare ragazzi e volete farla con i vostri amici vi lascio sempre in descrizione tutti i link necessari ovviamente solo per Xbox next gen ragazzi Xbox serie 6 quindi iniziamo con la gara ci farà partire con una bici ragazzi quindi spammiamo il magico tasto A ok siamo già subito a piedi dobbiamo scavalcare minchia raga questa è bastarda questa è veramente tosta allora quindi teniamo schiacciato RB per correre e scavalchiamo a bombazza raga raga lasciate nei commenti se conoscete questa gara qua e se riuscite a farla in meno tempo di me ragazzi vi lascio in descrizione il link quindi raga un minuto per salire qua sopra allora a questo punto qua bisogna camminare abbastanza veloce arrivare qua a saltare allora questi sono calpestabili oh che cazzo questo qua dobbiamo andare oh 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 ok ok questi sono le stesse cose di prima senza correre qua saltiamo per sicurezza qua ok qua stiamo in mezzo che tanto sale da solo e abbiamo preso checkpoint buono oh 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 minchia stavo cadendo qua 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 ci saltiamo così oh che cazzo fa ma che cazzo fa ma che cazzo no no maria che si è alzato da solo si è buttato giù ma che cazzo fai allora mettiamoci la furtiva perché qua ok furtiva saltino ragazzi teniamoci la furtiva perché sennò qua il gioco il tizio fa i cazzi suoi fa va dove vuole ok no 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 allora saltiamo qua la vedo malissimo raga questa ve lo giuro so che ci sarò un'ora a fare sta gara ok ok un altro ma basta oh liscio stavo andando di sotto raga oh stavo cadendo di nuovo la furtiva raga la furtiva la furtiva ok qua bisogna saltare oh cos'è 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 ah ok qua bisogna raga l'ho fatta un po' di tempo fa non me la ricordo bene qua qua ci spostiamo solo con la visuale di destra non tocchiamo nient'altro ok ok raga solo con la visuale di destra solo con la visuale oh 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 ok ok abbiamo preso il checkpoint minchia che è sudata uff quanti checkpoint siamo? 5 di 7 buono ok sempre con la nostra furtiva raga se no qua il tipo fa i beati i cazzaci suoi ok ok oh stavo andando giù perchè gta c'ha sto difetto raga c'ha sto delay cioè è una cosa schifosa ok minchia mi sento male guardate la dai velocizziamola un po' no ok 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 ci appoggiamo e sentiamo ci appoggiamo e sentiamo oh tutto sto pezzo da capo bisogna fare a a o i tutto sto pezzo da capo bisogna fare noo mi sento male maledizione Allora, prendiamo coraggio, salto 1, salto 2, qua mi fermo, ci casco due volte, mi giro E poi vado, quindi, camminatina veloce in furtiva, regà, dai Ok, ok Ci siamo avvicinati, siamo di nuovo dove eravamo prima, mi sa, regà Allora, qua, mi ha fregato, eravamo là giù, mi sa, non qua Ok, 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 regà No, 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 no Mi si scaricato il pad, regà Non ci voglio credere Vaffanculo, vabbè, attacchiamolo col filo, va Cioè, sto affondendo, son fradicio Allora Ah, non c'era meglio, però si faceva Regà, siamo a 10 minuti Sto pezzo mi ha rubato già due volte, due spawn Perché non, praticamente quando arrivi a sto pezzo All'improvviso il tizio sbarella, raga E vi caccia giù, cioè, è incredibile Cioè, sto paracadute che noi indossiamo Ma, scusate un attimo Eh, no, sì Fai il totale Volevo aprire Il menu interazione E disabilitarlo, ragazzi Ma Non si è puede Troppo facile, così Ok Ok, ah, oh, ci siamo Minchia, raga Ma guarda cosa c'è là sopra Io non me la ricordavo così lunga sta gara Quanti check point sono, scusa No, sbagliato 5 di 7, ancora Mamma mia Siamo vicini al check point, raga Sono fraticio Sono pezzato Sono, minchia Ho fatto un bagno in piscina Ok Pichiamo il check point Ho un po' di relax, raga Un po' di relax Qua ci voleva Perché Se no impazziamo Guarda come corre Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda Mi piace come sale le scale, raga Ma è bugato Non è normale È la speedrun, è be' lì Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh C'è uno spazio lì in mezzo Non me l'ero ricordato Maledetto Allora Sì, vabbè Ma finché qua è facile Qua lo speedrun c'è Mo' non ce l'ha più Allora Fatemi vedere Non mi fotte più Oh Ok Oh Ok Oh Ok Dovrebbe essere Tutto ora Non mi convince Quale punto lì Non so perché Ok Che cazzo è sta roba Sono macchine Qua ci sono Gli aratri Ibelini Del medioevo Cosa sono i carri Di Red Dead Regà I carri Di Red Dead Boh Vabbè Guarda qua C'è il checkpoint Lì sopra Lo vedo Lo vedo Ci siamo vicini Regà Ci siamo vicini Ci siamo vicini Non facciamo cazzate Adesso Non mi sembra A caso Proprio Ok Allora Questo È un problema No No Con quel O te De l'amordato Brazza Di nuovo Tutti I carri Ma Porta Tra Ma So La Malac Lo Te Su Ok Ok Minchia L'ho Fatta In Cora All in Amici All in Amici All in Amici Qua però È un problema Qua facciamo delle catamanda Perché qua Non so perché Non mi sento che mi fotte Ok 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 E via Ragazzi Scrivetemi nei commenti Se ce l'avete fatta In quanto tempo L'avete fatta Io ci ho messo 16 minuti Ragazzi E 21 secondi Fatemi sapere voi In quanto tempo Ci riuscite Bella Bella Lega Ciao 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 Grazie.